Buonasera, l'ASD Toscana Nord-Ovest ci segnala oggi in provincia di Massa Carrara solo 13 nuovi casi di positività e in particolar modo noi ne registriamo solo uno nel cune di massa. Un trend oggi in discesa ed in linea con i dati regionali che registrano il più basso aumento di contagi, più 4,4% dall'inizio dell'emergenza. Questo non deve indurci a pensare che sia finita, anzi è proprio il momento di continuare a restare in casa ed isolati perché vuol dire che il comportamento virtuoso, il comportamento che ci è stato raccomandato potrebbe incominciare a funzionare. Quindi vediamo domani, vediamo nei prossimi giorni come sarà l'andamento dei contagi ma intanto oggi registriamo un dato particolarmente positivo che comunque in qualche modo anche ci tranquillizza perché vuol dire che i contagi non aumentano in maniera esponenziale come vi ho sempre detto. Vi volevo darvi anche delle informazioni molto importanti questa sera. La prima è che è stato aperto dal centro Cumete un numero di telefono per lo sportello psicologico rivolto alla cittadinanza che vi ricordo essere gratuito. Il numero è 379-19-70-461 ed è attivo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e lunedì dalle 15 alle 18. Credo che anche questo sia un'altra proposta, un'altra offerta che il Cune di Massa sta proponendo al nostro territorio, alle persone che ne hanno bisogno perché sicuramente c'è bisogno anche di supporto psicologico e ringraziamo il centro Cumete che ha dato questa disponibilità, ripeto, gratuitamente. Chiamate pure questo numero che poi apparirà in sovraimpressione. Devo anche ringraziare coloro che stanno continuando a contribuire, non mancate di contribuire, versate le vostre donazioni, ringraziamo che stanno arrivando veramente tantissime, siamo oltre i 40 mila euro fino ad oggi al nostro conto corrente perché questi soldi verranno impiegati per il reperimento di tutti i beni necessari a contrastare l'emergenza Covid-19. Ringrazio questa sera Edilmarket che ha donato al Comune di Massa 500 mascherine chirurgiche, ringrazio la società IGLOM che ci ha regalato dei buoni pasto, stanno arrivando anche tante richieste, lo so da parte della cittadinanza, tante telefonate oggi al COC. Bene, vi voglio confermare che da giovedì mattina inizierà la consegna in città anche delle mascherine di cui hanno bisogno i nostri cittadini e la popolazione. Ma fatemi fare una breve appunto a questo problema dei dispositivi. I dispositivi di protezione individuale li devono adottare solo le persone che hanno necessità di uscire di casa, quindi non le persone che restano in casa, che sono il nucleo familiare, che coabitano, ma soltanto coloro all'interno del nucleo familiare o coloro i quali debbono uscire ad esempio per fare la spesa. Queste sono e solo in quel momento è necessario adottare mascherine, quindi fatene un uso corretto. Noi stiamo distribuendo già nella giornata di giovedì abbiamo 500 mascherine per la collettività da destinare e vi comunicheremo domani sera esattamente i punti di ritrovo dove le troverete. Poi stiamo anche attivando, oggi abbiamo lavorato tutto il giorno per predisporre il progetto di permettere in operatività la consegna dei buoni spesa. Allora abbiamo oggi redatto un'autodichiarazione, un'autocertificazione, con la quale il capo famiglia dovrà dichiarare i propri dati, indicare il proprio nucleo familiare e rendere una serie di dichiarazioni che saranno contenuti in questo documento che già da domani sarà disponibile per la cittadinanza. Vi ricordo che questa è un'autocertificazione che quindi colui il quale firmerà questo documento attesterà dei dati sotto la propria responsabilità anche di carattere penale. Il comune di massa effettuerà un primo screening attraverso i servizi sociali per valutare i requisiti dei soggetti che saranno beneficiari di questo buono spesa e poi verranno effettuati tutti i controlli successivi con tutte le banche dati che abbiamo a disposizione. Quindi l'impegno è, invochiamo anche il senso di responsabilità di coloro che effettivamente si trovano in difficoltà oggettive e che hanno bisogno di questo contributo. Vi volevo ricordare che il contributo minimo riconosciuto sarà di 150 euro per il capofamiglia, aumentabile di 50 euro per ogni componente familiare fino a un massimo di 300 euro. In più per ogni neonato da 0 a 24 mesi facente parte del nucleo familiare sarà riconosciuto un ulteriore incremento di euro 25. Domani avrete disponibilità di questo documento quindi vi invito a inviarlo poi via mail all'indirizzo che viene indicato in questo documento che comunque è buonispesa-comune.massa.ms.it ma domani avrete maggiori chiarimenti e quindi domani perfezioneremo questo meccanismo. Io spero che entro la fine di questa settimana tutte le famiglie, tutti i soggetti che hanno bisogno, che hanno necessità di questo contributo lo possano ricevere. Quindi credo che oggi possiamo registrare due dati positivi quindi uno scarsa aumento o limitatissimo aumento dei contagi, il fatto che il comune si sta attivando in tutti i fronti di propria competenza, consegna delle dotazioni di protezione individuale alla popolazione, sostegno psicologico e buone spese. A domani sera.